Montesilvano ricorda una sua concittadina. Quando Chiara Magni si è spenta a causa di un brutto male, il suo compagno si è recato in comune chiedendo di valorizzare il posto dove la donna amava rilassarsi, su una panchina all'ombra di un albero sfogliando un buon libro. Ora quella panchina l'è intitolata e dall'albero penzolano dediche affettuose da parte dei suoi amici e parenti. Come nasce questa iniziativa? Da quella panchina? Quella panchina perché Chiara mi fece una fotografia di quella panchina con un libro che lei veniva a leggere in questo parco. Dopo la sua morte io sfogliando tutte le vecchie foto mi sono ritrovato questa foto e allora ho pensato di fare una panchina commemorativa. Poi da cosa nasce cosa e alla fine abbiamo ricreato un qualcosa di bello, piacevole per chi usufruisce del parco. Abbiamo aggiustato i giochi, abbiamo volto le scritte mettendo qualcosa di carino attinente sia a Chiara che la mia compagna scomparsa e sia per i bambini perché Alice nel Paese delle Meraviglie la tesi di laurea di Chiara in lingua inglese. Il giardino nel centro di Montesilvano così è stato riqualificato a partire dall'iniziativa di un cittadino. Ci sono nuovi giochi per bambini e anche una teca con dei libri così da poterne sfogliare uno seduti all'ombra come Chiara amava fare. Un'area verde frequentata da tanti ragazzi e tanti cittadini che oggi rappresenta sicuramente un qualcosa in più di un'esemplice area verde. Grazie al ricordo che abbiamo voluto tributare a Chiara, questa nostra cittadina che tanto amava frequentare questo parco, quest'area sarà davvero pregna di significati. Grazie a tutti.